Cus Camerino News Cominciamo intanto da quando sei intanto in Unicam e da quando sei invece anche istruttore e responsabile di Sala Pesi qui per il Cus Camerino. Allora io frequento l'Unicam da sei anni, ho le ultime materie alla laurea per finire e collaboro con il Cus di Camerino da sei mesi. Faccio gli istruttori in Sala Pesi, diciamo che qui gli atleti vengono a strutturarsi sia fisicamente che nella mente perché oltre a strutturarsi nel fisico la mente ha pure il suo ruolo, la mente è pure importante. Ora qui abbiamo diverse discipline tra cui il bodybuilder, il powerlifter, l'arrampicata, possiamo andare a fare atletica, calisthenics come vedete alle mie spalle e tutte queste discipline servono oltre a fortificare il corpo a fortificare la mente. Unicam, Cus Camerino Insieme ovviamente è una scelta vincente al quale ti sei avvicinato e sei stato talmente coinvolto da fare anche l'istruttore. Ma so che ti stai anche preparando e preparando diversi atleti per delle giornate importanti direi. Allora sì, io ho partecipato a tanti campionati italiani di powerlifter, soprattutto di panca piana e bench press e sto preparando degli atleti da portare a giugno ai campionati FPL, quindi italiani nazionali, sia nelle tre alzate di forza che di panca, stacco e squat. Non solo studenti ma anche molti docenti utilizzano le infrastrutture della Sala Pesi, giusto? Sì, giusto. Allora, la Sala Pesi come tutti gli impianti qui in Via Le Calvie non sono aperti esclusivamente solo agli studenti ma sono aperti a tutte le persone del territorio, dei paesi limitrofi. Quindi qualsiasi persona può approcciarsi a qualsiasi sport che è l'unicam e in questo caso il CUS dà. Alla vigilia dei CNU, i campionati nazionali universitari che si terranno qui a Camerino, la palestra, la Sala Pesi diventa anche un punto di riferimento importante per la preparazione? Ti confermo che molti utenti si stanno preparando in queste strutture per affrontare il CNU. Cosa vorresti dire ai nostri telespettatori, a chi dovrà iscriversi ad un Ateneo? Perché unicam? Allora, iscriversi ad unicam ha diversi risultati positivi, tra cui essere seguiti sia nell'ambito dello studio sia nell'ambito di tutte le discipline, quindi essere seguiti a 360 gradi e avere un appoggio, un appoggio in tutto quello che facciamo, quindi sia nel percorso universitario che nel percorso sportivo. Per questo ho scelto unicam.